ciao ragazzi mi è appena arrivato questo mulinello dal negozio black hook di roma andiamo a vederli insieme nella scatola abbiamo una doppia bobina questa è la bobina più capiente la casa riporta 530 metri del 35 andiamo a vedere il mulinello il rotone è un zion vu un composito a base di fibre di carbonio che lo rende più rigido e leggero la frizione è la nuova qdm che è ancora più rapida e modulabile la nuova estetica dell'emblem si contraddistingue da questi particolari cromati sul corpo e sulla bobina questo nuovo emblem 45 senza dubbio mi accompagnerà nei prossimi mesi di pesca presso il negozio black hook di roma potrete trovare questo e tutti gli altri prodotti della linea d'aiva